Mamma mia che disastro, questo coronavirus ha fatto veramente una catastrofe e sembrerebbe purtroppo non mollare. Per cui il video di oggi vi spiegherà sinteticamente tutti i film che hanno spostato chi sarebbero dovuti uscire in primavera e ce ne sono alcuni che fanno veramente male. Partiamo subito con quello che forse fa più male di tutti appunto, così almeno togliamo l'erba, l'arbaccia subito. No Time To Die di 007, questo film non uscirà mai per i miei gusti perché l'hanno doveva uscire ad aprile dell'anno scorso, l'hanno spostato ad ottobre dell'anno scorso, l'hanno spostato ad aprile di quest'anno e adesso giunge la notizia che lo spostano ad ottobre di quest'anno per cui dovremo aspettare ancora una decina di mesi prima di vederci l'ultimo 007 di Daniel Craig e ciò però ha una conseguenza, meno grave sicuramente, perché va a influire sul film di Morbius perché il film di 007 è stato spostato a fine ottobre, nella stessa data, guardate caso, che sarebbe dovuto uscire Morbius. Così Morbius l'hanno spostato ad aprile, in primavera del 2022 addirittura. Poco male, perché a me di quel film interessa poco e niente, però lo vedrò giusto per completezza. Se da una parte mi spiace terribilmente, soprattutto per i film di 007, perché mi avrebbe fatto molto molto piacere vederlo prima, da una parte è anche giusto perché sono film che vivono di incassi nelle sale, di incassi giganteschi, per cui farlo uscire in streaming non è un'ottima idea sicuramente. Il 18 dicembre 2021 è la data in cui è stato spostato e in cui si spera che uscirà Assassino sul Nilo di Kenneth Branagh, un film che attendeva abbastanza, sicuramente non il film sicuramente più bello del 2021, però era anche una grande sorpresa vederlo e ovviamente è stato spostato, che vi devo dire, al 18 dicembre aspetteremo un anno per vederlo, non c'è più nient'altro da dire. Questo seriamente mi sono dispiaciuto, Dune, spostato ad ottobre. Mamma mia che peccato. Allora, io aspetto tantissimo questo Dune, Dune, perché è un remake di un grande film, non un capolavoro, comunque un buon film, e anche il rifacimento di un libro bellissimo, che era appunto Dune di Frank Herbert, per cui speriamo che esca, magari lo anticipano, se la situazione si stabilizza un po', per ora siamo a ottobre. Viene anche spostato purtroppo Avatar 2, che ritroveremo a fine 2022, dicembre 2022, e così è una reazione a catena perché si spostano anche tutti i sequel di un anno, quindi Avatar 3 nel 2023 o 2024, Avatar 4 nel 24-25 e così via fino al 5. Insomma, mi dispiace molto perché Avatar mi era veramente piaciuto. Girato dalla sola sorella Lana Wachowski, in assenza della sua sorella Lily, Matrix 4 anch'esso è stato spostato e mi spiace molto perché Matrix è una trilogia che mi piace. Le Wachowski sono delle buone registe. Francamente mi spiace molto il fatto di vedere sto film il 22 dicembre del 2021. E dovrà aspettare anche Last Night in Soho, di quel genio di Edgar Wright, però qua almeno confido, c'è la magra consolazione, anzi neanche tanto magra, abbastanza cicciosa consolazione, che magari quest'anno ci arrivano due film di Edgar Wright perché sta girando anche Baby Driver 2, confido in lui. E ultimo, ma non meno importante, dovremmo aspettare anche per vedere Top Gun Maverick. Allora qua sorge un piccolo dibattito. Tom Cruise, buon attore, cattivo attore? Secondo me sta in mezzo. Sicuramente non è uno dei migliori attori dalla parte diciamo dialogica, dell'espressività, però c'è da dire che il suo lavoro lo sa fare perché mettiti te a fare a 55-60 anni delle scene d'azione così, diciamo impossibili. Comunque dobbiamo aspettare al 2 luglio per vedere Top Gun e comunque dai, si può aspettare almeno fino a luglio. Infine, traggo alcune conclusioni. Allora, se tutti questi film rimandati che escono diciamo nella seconda parte, al 2021, quindi la maggior parte da ottobre, poi abbiamo visto anche delle eccezioni come Top Gun che uscirà a luglio, si spera ovviamente, e cioè avremo un periodo dell'anno pieno di film e un altro periodo dell'anno completamente vuoto dove non uscirà niente. Quindi cosa fanno uscire adesso? Perché è un periodo abbastanza vuoto. Adesso, nel 2021, sono usciti solo il nuovo film di Rodriguez, poi Pieces of a Woman, ma nient'altro, cioè pochissima altra roba. E spero soprattutto di vedere il nuovo Woody Allen e anche e soprattutto il nuovo Wes Anderson. Però sicuramente farò anche un video sui più attesi del 2021.